salve a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale oggi vi farò vedere un nuovo disegno per questa volta noi faccio vedere uno speed drawing perché non ho fatto su questo disegno un disegno su commissione vi farò vedere direttamente il disegno finito anche questa volta ho usato i prisma color premier sono stati ottimi eccellenti vi faccio vedere il risultato di come avvenuto oggi sarà la consiglia guardate tratto di una bambina fatto ovviamente con i prisma color guardate gli effetti grazie a tutti